La fiera del folklore, fiera folklore 2005, 12 paesi importanti, qui parte il nostro viaggio, state con noi. La fiera del folklore, fiera folklore 2005, 12 paesi importanti, qui parte il nostro viaggio, state con noi. La fiera del folklore, fiera folklore 2005, 12 paesi importanti, qui parte il nostro viaggio, state con noi. La fiera del folklore, fiera del folklore, naturalmente in compagnia del dottor Marco Tedde, sindaco di questa bellissima città a Calghieri. Tutto ben trovato, buonasera. Grazie, grazie, grazie. Una bellissima festa, una bellissima giornata, non soltanto per gli aspetti meteorologici, però obiettivamente oggi continuiamo un percorso importante che abbiamo intrapreso l'anno scorso. Cerchiamo di integrare le peculiarità della costa con quelle dell'interno perché siamo convinti che un'offerta turistica qualificata non possa assolutamente prescindere dalle zone interne, da tutte le tradizioni, le culture, i mestieri, i saperi, i sapori dell'interno che si devono coniugare con le bellezze ambientali della nostra costa e con le specificità culturali e storiche di Alghero. Ecco, è un cammino importante. Puntiamo a articolare in modo molto intelligente l'offerta turistica. C'è stato un grande turismo quest'anno ad Alghero? Io credo che i risultati siano buoni. Abbiamo visto dei flussi sostenuti, non abbiamo visto vuoti come a volte accade. Credo che alla fine il rendiconto, il bilancio consuntivo sarà positivo, quantomeno lo spichiamo.